Questo tratto di mura a nord della città costituisce l'ultimo tassello di quel grandioso progetto voluto da Ercole Primo d'Este e realizzato dal grande architetto Biagio Rossetti sul finire del 400 Grazie a tutti! La quattrocentesca porta di San Giorgio, che fino alla fine del Cinquecento presidiava il principale ingresso a Ferrara, deriva il nome dall'antistante chiesa suburbana, prima cattedrale della città, raggiungibile attraverso il ponte sul Po Volano. Arrivati al termine di questo tratto, vi imbatterete nello splendore barocco di Porta Paola. Grazie a tutti!